Buon pomeriggio a tutti, conferenza stampa della vigilia del match dei 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa-Lecce-Cittadella. Mr. Marco Baroni a vostra disposizione, c'è la prima domanda di Gabriele De Giorgi-Lecce Mr. Bentrovato, ormai ci conosciamo la sua proverbiale riservatezza rispetto alle formazioni anche per non dare mai un vantaggio, ma visto che siamo alla vigilia del primo impegno ufficiale il Lecce è cambiato, notevolmente ancora un cantiere aperto, per questa volta ce la dice la formazione di domani? Allora, non avrei problemi nella misura in cui è chiaro che dobbiamo fare una rifinitura ci sono ancora alcune situazioni che devo valutare, vi posso anticipare che devo valutare un attimino di Francesco, anche se sicuramente della partita inizialmente partirà credo Cessai e poi forse ecco l'unica cosa proverò Alex Blaine da centrale difensivo ecco questo sono un po' poi gli altri insomma ecco ehm devo ancora un po' valutare oggi nella seduta di oggi perché comunque abbiamo un pochettino questa settimana alleggerito però siamo ancora su carichi importanti ecco senta ehm ehm tra una settimana iniziano a eh scorrere le lancette del campionato quelle per cui i punti o si conquistano o si perdono rispetto a quella data e all'impianto che lei ha in mente del della squadra qual è il grado di completamento a questo punto e qual è il la valutazione che lei fa del lavoro fatto ormai fino alla vigilia del campionato guarda la valutazione del lavoro fatto buono buono perché c'è un gruppo abbiamo cambiato anche molti giocatori ma sono arrivati sono arrivati ragazzi giovani giovani interessanti ragazzi che intanto hanno si sono messi subito con grande disponibilità con cultura del lavoro e che è la cosa che noi comunque portiamo sempre avanti tutti con il mio staff con la società con e quindi da questo punto di vista abbiamo trovato terreno fertile e anche loro devo dire la verità per quanto riguarda la domanda ma è è chiaro si sono c'è ancora un mese no di di mercato c'è strafiducia nella società nell'area tecnica che conosce perfettamente le dinamiche sia di mercato che di campo qualche qualche reparto siamo un po' più avanti qualcuno meno però da questo punto di vista la mia attenzione è rivolta solo esclusivamente a prepararci al meglio sapendo anche se qualche difficoltà iniziale la troveremo ma dobbiamo dobbiamo velocemente trovare ritrovare quell'identità no che che ci ha permesso di ottenere quello che abbiamo fatto lo scorso anno che comunque è già dietro le spalle Alessio Amato Calcio Lecce ben ritrovato mister non per insistere su quest'ultimo aspetto però giustamente anche il direttore Corvino nelle scorse settimane ha detto che la situazione legata ai difensori centrali si sono verificate delle delle circostanze che erano anche difficili da prevedere sotto alcuni punti di vista lei dal punto di vista del tecnico a una settimana dall'inizio del campionato è preoccupato esclusivamente pensando concentrandoci sull'aspetto di campo quindi ha detto che proverà Blen quindi è chiaro che è una cosa anche in prospettiva Inter mentre la seconda domanda se in questo periodo avete lavorato dal punto di vista tattico insistendo chiaramente su quello che lo statura che porta avanti già dall'anno scorso ma magari cosa ha provato di diverso in ottica di un campionato che vedrà magari il Lecce dominare di meno il pallino del gioco rispetto a quanto fatto No allora per quanto riguarda il discorso e poi lo chiudiamo qua nel senso che io è chiaro domani proviamo Alex ma io chiaramente cerco di trovare tutte le risorse che ho a disposizione ed è giusto fare fare così quindi in questo momento mi parlavi se sono preoccupato la preoccupazione mai non ci deve essere perché io sono qui che lavoro con questi ragazzi sappiamo che andiamo a affrontare un campionato difficilissimo complicato dove trovi squadre che possono essere anche dieci volte superiori a te ma da parte nostra ci deve essere sempre il coraggio l'entusiasmo testa alta la voglia di combattere e di essere pronti a tutto quindi da questo punto di vista non non c'è preoccupazione e per quanto riguarda sì è chiaro che poi ci sono ripeto più che guardare bisogna chiaramente stiamo lavorando su una categoria completamente diversa ma questo non vuol dire che il Lecce deve difendersi per forza poi sono le partite che ti porteranno a fare questo ma la cosa importante è che noi dobbiamo avere delle idee dell'idea dell'organizzazione e come ho detto prima dobbiamo avere giocatori pronti a tutto ecco questo è è importante con con l'entusiasmo mai 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 con timore questo sono le credenziali iniziali pur sapendo che si troverà delle difficoltà specialmente inizialmente perché impatti su un campionato completamente nuovo diverso e questo lo sappiamo Pasquale Marzotta Gazzetta dello Sport e Mondoradio buongiorno mister ben ritrovato dopo quasi tre mesi in Salento visto che ha parlato nelle gare che sono state in questa estate per quanto riguarda questo Lecce la base di partenza è conclamata il 4-3-3 ma visto che ci sono diverse situazioni in campionato ci potrebbe essere la variante del 4-2-3-1 o si vedrà poi guarda è quello che ho detto prima no io non credo più nel nel una cosa è certa noi dovremmo avere grande dinamicità in tutte e due le fasi questa dinamicità ti può portare anche ad avere qualche interpretazione diversa questo non lo escludo però quello che è importante noi stiamo stiamo portando avanti qualcosa in cui crediamo che è la cosa più importante e lo dobbiamo fare con convinzione con coerenza con determinazione ecco quindi la strada è questa è tracciata e poi ci andremo a confrontare con con quello che abbiamo detto prima che è il campo una domanda allenarsi di mattina la seduta a mattutina è una scelta voluta da lei per dare un certo ritmo di lavoro alla squadra la mattina presto si va via a luna c'è un motivo preciso per questo orario no allora intanto magari è il mattino ma anche per un fatto proprio così è il miglior momento per allenarsi da questo punto di vista proprio anche fisiologico noi chiaramente in questo momento optiamo anche per questa soluzione per stare un pochettino lontani dalle ore più calde anche se poi insomma qui siamo sempre un po' aiutati dalla ventilazione che ci permette sempre comunque di lavorare bene però questo l'abbiamo sempre fatto anche durante l'anno tranne la seduta di rientro dove così io concedo magari una una mattinata ai ragazzi per 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 rientrare poi questo ci permette a volte di stare anche insieme a pranzo quindi di avere un po' più di tempo per per condividere per stare per stare insieme in queste prime cinque amichevoli la fascia di capitano è cambiata da tuia a bleve a al del maco ma si è deciso il capitano o si aspetta la fine del campionato il capitano non è che noi buttiamo la fascia in aria e poi qualcuno la prende ci sono sicuramente dei candidati per me invece è molto importante perché è un ruolo un riferimento ma non lo deve essere solo di anni o di di presenze ma lo deve essere durante negli allenamenti in campo fuori deve essere un riferimento quindi un riferimento visibile più che altro ci interessa questo per Andrea Castro Salento Live 24 ben ritrovato mister grazie lo scorso anno a Parma nella prima partita in Coppa Italia stupiste tutti facendo vedere comunque di non essere comprimari quanto è importante comunque superare il turno dare un segnale proprio di forza alla piazza ma un po' anche alle contendenti per la salvezza questa è la prima domanda e poi una seconda se c'è qualcuno dei nuovi arrivati o in ritiro oppure in queste ultime settimane che l'ha sorpreso di più nella capacità di integrarsi nel suo tipo di gioco guarda allora io ai ragazzi dicono per noi non esistono amichevoli mai come non esistono esistono allenamenti in cui dobbiamo sempre andare forte perché poi giochi come ti alleni quindi domani è una partita che conta perché ed è una partita tra l'altro con un avversario che ci è sempre stato un pochettino di gesto per la sua aggressività quindi è una partita che mi aspetto subito anche se nelle difficoltà e ci saranno perché è normale è naturale in questo momento ma mi aspetto subito una prestazione importante come io ho appena detto e quindi questa deve essere visibile a tutti insomma anche da questo punto di vista non possiamo sbagliare questo no non mi piace fare dei nomi lo sapete benissimo però quello che ho detto prima ho trovato grande disponibilità grande voglia qualcuno è un pochino più indietro qualcuno magari che ha avuto si porta magari dietro qualche infortunio nel pregresso chiaramente nella stagione passata qualcuno che ha più un livello di condizione però ho visto grande 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 applicazione che è la cosa più importante perché noi facciamo un lavoro meraviglioso e quando fai qualcosa che ami se lo fai con amore con passione con determinazione poi questo è un moltiplicatore di tutto di energie di crescita di qualsiasi cosa ultima domanda per il ministro Baroni Pierpaolo Verri Gazzetta del Mezzogiorno sì mister per quanto riguarda gli ultimissimi arrivati di Francesco ha già detto se Samek ha la possibilità di trovare spazio domani e poi qualche considerazione su Gonzales che è stato molto impiegato diciamo nel precampionato se anche lui può avere delle chance nella partita di Coppa no Gonzales ha fatto bene sta facendo bene anche lui è un ragazzo giovane ha dei carichi addosso di lavoro io sto cercando di ora di fare questo avvicinamento al campionato dove voglio anche far smaltire a qualcuno e questa la partita di umani è un test per chi va in campo poi noi dobbiamo sempre pensare a 16 giocatori cioè non è che dobbiamo noi in questo campionato dobbiamo mettere dentro cioè chi va dentro deve essere un titolare deve essere uno esce uno che ha dato il 300% e deve entrare uno che dà il 400% quindi da questo punto di vista ritorno a ripetere non ci sono ci saranno qualcuno che parte prima e qualcuno che entra dopo è molto probabile che Gonzales sia della partita per quanto riguarda Samek vediamo insomma ecco vediamo è appena arrivato insomma abbiamo fatto due allenamenti grazie a mister Marco grazie a voi grazie a tutti voi grazie a tutti